Cosmopro è un grande ritorno, un grande entusiasmo. Siamo oggi nella condizione di avere 300.000 clienti web, online e circa un milione di visualizzazioni al giorno. Il selfie è il mio segretario beauty, è il migliore del mondo, il segretario beauty è il migliore del mondo. B-Selfie aiuta le persone che hanno paura, perché c'è ancora chi ha paura del chirurgo estetico, di B-Selfie non dovete aver paura, risolve lui i vostri problemi. B-Selfie oggi rappresenta la rivoluzione nel mondo della bellezza. Per me B-Selfie è un brand super innovativo e rivoluzionario nella skin care. Per me B-Selfie è stare bene, è bellezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.